Nuovo round nell'incontro sulla chiusura di via 11 febbraio dopo quello avvenuto settimana scorsa con l'altra parte. Ieri il comune e la polizia municipale hanno incontrato nuovamente i residenti. Esigenze dei genitori, dei ragazzi alla mano e risenditi gli abitanti di via 11 febbraio fermi sulle loro posizioni. Ieri è emerso che la via di una conciliazione potrebbe passare dall'apertura della porta che la scuola ha già sul parcheggio di via Santa Maria in Bethlehem ma su cui le suore stanno facendo resistenza. Insomma il match è lontano dall'avere un vingitore. Non resta che aspettare il prossimo round.